Luca Argentero e Cristina Marino, un amore ostacolato dalla carriera? Gossip, Luca Argentero e Cristina ormai fanno coppia fissa. Tant'è che recentemente hanno partecipato insieme all'evento, Amfar di Milano e tutti hanno potuto ammirare la coppia in pubblico per la prima volta. Ma, un piccolo neo che turba la serenità di Cristina. C'è un piccolo neo che rischia di offuscare la gioia di vivere insieme questa nuova avventura sentimentale. Una storia che segna la svolta definitiva per Luca Argentero dopo la fine dell'amore con Miriam Catania. L'ex di Luca Argentero attualmente è felicemente impegnata con Quentin. Cosa riserverà il futuro a Luca Argentero e a Cristina Marino?. Gossip, che cosa potrebbe essere questo piccolo tarlo che rischia di minare il loro rapporto? La lontananza causata dai reciproci impegni di lavoro e l'impossibilità di vivere più intensamente la loro quotidianità. Un amore a distanza può essere anche intrigante, fino a un certo punto, però, poi, alla lunga stanca. Questo è quanto avrebbe rivelato un'amica di Cristina. Arriba prima o poi il momento di prendere una decisione importante. Un rapporto non può rimanere sempre statico, ma ha bisogno di crescere e trasformarsi. Per questo, però, bisogna stare insieme. Cristina Marino vorrebbe la convivenza con Luca Argentero, basta fidanzata part-time?. Cristina Marino non accetta più, a quanto pare, il ruolo di fidanzata a distanza e vuole avere un peso ben più importante nella vita di Luca. Il desiderio di Cristina è sicuramente legittimo e Luca ha reagito di fatto con la prima uscita in pubblico, ufficializzando così, la loro rialzione alla luce del sole. Gli attori sono costretti a spostarsi continuamente, per esigenze di lavoro, ma se la fiamma dell'amore è forte, la lontananza non potrà spegnerla. Resisteranno Luca e Cristina a questa prova d'amore? Ci sarà nel loro futuro la convivenza, o magari il matrimonio. Gli attori sono costretti a spostarsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.